all'interno di live television siamo a leven e come per incanto è bellissimo grazie grazie ritroviamo due fantastici personaggi ho sentito la radio ieri sei forte la radio però grazie mi sono sentito la tua radio sono fortissimo grazie ryan peris ryan peris paolo ryan per questa sera all'even direttamente dalla germania ryan peris ci canta in esclusiva per il gruppone dolce vita remix 2010 in esclusiva per la prima volta all'even non mi hai detto niente naturalmente ma che vuoi tu? ma chi è questo? ma ne vado è inutile ripetere le solite cose Con Faber Cucchetti in console, con amici come Fabio Roscioli, nato a Roma, emigrante di lusso tedesco, uno degli esponenti della Italo Disco degli anni 80, La Dolce Vita, è un suo prodotto clamoroso. Pierluigi Giombini, con presentatori quali Andrea Fragasso, con televisioni come la vostra, ma soprattutto, non avevo dubbi, a riguardo un secondo, diamo un attimo di una direzione artistica di livello, non possono che uscire queste serate vintage meravigliose come quelle del venerdì e del sabato a Level. Dopo si esibiranno anche loro in console personaggi quali Double Fab, quali Gilda DJ, quali la Malta Cat e dall'Irlanda il grandissimo Heddy Rocks. All'interno di Live Television, di nuovo, naturalmente, insieme, dopo un po' di tempo, direi, ci è immensamente mancato con il maestro, con David Bishelian, tutto il suo splendore. Comunque, naturalmente, il verde è sabato, due grandi appuntamenti, come ben sapete, poi sabato pomeriggio l'appuntamento è naturalmente per i teenager, di cui sempre parliamo, e poi durante la settimana eventi, compleanni, feste, situazioni, eventi sportivi, mostre cinematografiche, collezioni di Franco Bolli, trick e track e bombe a mano. Sì, è proprio un... hai fatto la giusta considerazione, è vero? Eh, lo so. Pure di Franco Bolli, mi ha dato un'idea, mi ha dato un'idea, mi ha detto una cavolata. La cale si presta per giardino, il coso, tutti, questa... climatizzato... Non si rovinano. Non sta scherzando. È successo. Mica ha detto una cavolata. Noi prospettiamo l'evoluzione che poi l'estate per noi sta diventando l'evoluzione di questa stagione. la seconda stagione naturalmente del vintage, di questa fantastica manifestazione che poi hai vissuto insieme a noi l'altra stata e che li vivrete sempre insieme a Live Television. Sarà arricchita di avvenimenti, insomma, però vorrei dire invece che è nata una nuova iniziativa, forse te non te l'ha detto Paolo? No. Stiamo cercando 70... from the 70s, dagli anni 70 anche 80. Ragazzi e ragazze, boys and girls, quindi saranno i boys and girls, 70s boys and girls... Ma c'è una famosa canzone, eh? E praticamente consiste in questo. Chi vuole o vuole partecipare a questo concorso, che vedrà appunto chi è interessato, avrà la possibilità di salire accanto, insomma, seguito da Paolo Pasquale che è il nostro direttore artistico, e diventare, dopo accurate selezioni, è proprio un concorso che vince, avrà un contratto per la prossima estate. Naturalmente si possono iscrivere anche i giurati, i giurati avranno un simpatico gadget ogni sera che faranno questa votazione, quindi da questa iniziativa nascerà il corpo, quello che una volta erano gli Evans Angels, quindi il corpo da ballo della discoteca, quando andavano, quando la moda era il cubista, la cubista, l'animazione, adesso si è spostato questo traguardo verso un'altra direzione che può essere voluto dei ragazzi e ragazze 70-70. Quindi l'età dai 21, facciamo in America, dai 21 anni in poi. E il modo com'è? Semplicemente contattando la discoteca Evans oppure utilizzando il sito? No, dei siti, quindi www.event.it oppure www.gruppone.cc L'appuntamento per il vintage sarà da quando? Da più o meno il 10 giugno, perché all'interno del vintage ci sarà anche una manifestazione chiaramente dedicata ai mondiali, con retrospettive degli anni 70-80, quindi iniziamo la stagione dedicando una parte del vintage ai mondiali che è importante, però con una grossa retrospettiva degli anni passati, le coppe vinte dal team medagliano in precedenza. Live television, grandi, buonanotte, a voi. All that she wants is another baby 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 All that she wants is another baby